Ma quindi la tizia di Tinder arriva sul serio, quindi stasera hai... No. No, questa sera noi siamo qua per trovare l'amore. Non come le altre volte che ci provi, poi torni a casa e ti fai le pignette. Che si mangia stasera? Oggi tutto, oggi tutto buono, perché se tu non sputo nei piatti. Signora la zuppa è pronta! Ciao! Bene, bene, è uguale alle foto. Il problema è che anche tu sei uguale alle foto. Piacimi Mirko! Piacere. Oddio, ascoltami che sono la tua coscienza, questo ha la rmoscia. Speriamo non solo quella. Hai visto le mani, guarda le mani. Sai cosa si dice di quelli che hanno le mani piccole? Ti sa guardano le mani? Sai che cosa si dice di quelli che hanno le mani piccole? Di qualcosa di carino, dai. Gattino. Più carino, più carino. Tanti gattini! Una maglia di gattino! Oh guarda lì c'è un gattino! Un batuffolo! Ah, non un batuffolo di polvere. Vabbè gatti, gattini. Ti piace i gattini. Senti, adesso o mi ascolti o mi ascolti. Ma li stai guardando le tette? Che ti ho detto? 15 secondi netti e ti guardavo le tette. Ma dimmi, che hobby hai? Spruzzare acqua dalla vagina. Il decoupage, io amo il decoupage. Ma come il decoupage? Non sappiamo cos'è il decoupage. Se ci chiedi cos'è il decoupage cosa rispondiamo? Ma anch'io lo amo, il decoupage. Che cazzo è il decoupage? Il decoupage? Noi non lo sappiamo, ma c'è chi? Il decoupage? Noi non sappiamo che cos'è il decoupage. Cos'è? Cos'è? Ma non vogliono gli altri adesso con le mie storie di decoupage. No, no, infatti hai perfettamente ragione. Senti, ma è la prima volta che esci con qualcuna conoscita su Tinder? Ma lascia perdere il passato. Domani so quello che oggi ho scelto di essere. Hai visto che serviva a comprarlo? Di essere. Fabio Polo no, Fabio Polo no. Sorridi, sorridi, nel dubbio sorridi. Ma dimmi che cosa guardi? Big Bamboo, Big Bamboo, è una gran bella virtù. Gli occhi. Big Bamboo, Big Bamboo. Mi piacciono gli occhi. Quanto è grande il Big Bamboo! Gli occhi da Dio! Big Bamboo! Gli occhi. Gli occhi. Gli occhi guarda l'uomo. Tu piuttosto. Tu. Cosa guardi in una nonna? Tutto ma non le tette. 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 Gli occhi. Gli occhi. Gli occhi. Gli occhi. Ok, non avrà un bel fisico. Non avrà un bel carattere. Non avrà un bel corpo. Ma respira. Forza! Dai! Dai! Qui mi annoio. Da me o da te? Non dirgli che vivi con tua madre. Fai il figo figo. La mia casa è il mondo. E poi ogni tanto le faccio stirare una camicia quella vecchia. Vive con la madre. Facciamolo venire da noi. Ti andrebbe di bere qualcosa da me? Sì! Vai! Vai! Che lo facciamo questo gol! Vai che la perdiamo la virginità questa volta! Facciamoci un selfie! Tanto cosa vuoi che possa succedere andando con questa qua eh? Ma cos'è questo bruciore? No! Stasera non possiamo! Perché tu hai la candidà! Si tu hai la candidà! Eh non posso! È mercoledì! Giusto? È mercoledì sono le 10. Non posso perché ho il corso. Ho il corso... Il decoupage! Di decoupage! Ho il corso di decoupage! Tutti i mercoledì amici! Il decoupage! Ah! Il decoupage! Adesso andiamo con lei? O non andiamo con lei? No! Perché noi non lo sappiamo che cos'è il decoupage! Non lo sappiamo! Devo andare! Mi spiace! Dai! Dille qualcosa di carino! Belle tette! Ciao! Grazie! Ciao! Ciao! Scusa! Ciao! Metti più conna! Prossima volta glielo facciamo vedere noi! Il decoupage! La decoupage ho tutta! La decoupage ho tutta! Sì! Così fino a radia! Singiale! Si allora,